Un'ora e mezza di musica sulla terrazza del Policlinico Sant'Orsola di Bologna per abbracciare dal nord a sud tutto il personale sanitario impegnato nell'emergenza coronavirus e ripartire insieme un concerto e live streaming Facebook degli stadio che con oltre 120.000 visualizzazioni in collegamento con l'ospedale Umberto I di Siracusa, il Cannizzario di Catania e il Sant'Orsola dove decine di operatori sanitari e ballerini per una notte esibendosi in diretta dai tre ospedali hanno emozionato la rete sulle canzoni che Curreri e la sua band con ospita sorpresa e viaggio Antonacci ha riproposto in un ringraziamento corale per l'impegno nella gestione della pandemia. Siete dei fenomeni, ha detto e ripetuto a tutti gli operatori sanitari. Il concerto ha lanciato la raccolta fondi Voi come noi destinata ai tre ospedali di Bologna, Catania e Siracusa. Si sono intensificati i controlli sul territorio di Siracusa soprattutto nel fine settimana sia da parte dei carabinieri sia da parte della questura di Siracusa. I carabinieri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo sul territorio. Sono scattate anche denunce e segnalazioni amministrative per detenzione di stupefacenti e per uso personale numerose contravvenzioni al codice della strada. La Polizia di Stato ha in particolare arrestato un uomo ritenuto responsabile di un furto. Si tratta di Sebastiano Violante, siracusano di 42 anni, che è scappato appena visto gli agenti che erano intervenuti per furto in un garage sito in Vianicastro, a Siracusa. Giunti in via Sicilia, le agenti hanno notato un uomo che si dava alla fuga per la campagna, buttando la refurtiva che è stata restituita a legittimi proprietari. Violante è stato posto agli arresti domiciliari dopo che è stato preso ed è stato denunciato per esistenza, minaccia, oltraggio e lesione pubblico ufficiale. In particolare i carabinieri hanno rafforzato i controlli con l'impiego di una squadra del XII Reggimento Carabinieri di Palermo. È scattato l'arresto di un pregiudicato di 41 anni siracusano, trovato in possesso di 26 dosi di cocaina per un peso di oltre 6 grammi e bario, materiale utile al confezionamento, e la denuncia è stato di libertà di tre soggetti. Sono stati segnalati giovani con gli assuntori di droga, sono state effettuate 43 perquisizioni, tanti controlli che si stanno eseguendo anche per la giusta osservanza delle misure anti-Covid. È stato firmato il contratto di appalto con Tecra SRL per la gestione del servizio di igiene urbana a Siracusa. Si conclude l'iter amministrativo avviato con il Bando europeo, che affida per i prossimi sette anni, per la somma complessiva di 121 milioni 454 mila euro circa, uno dei servizi più importanti della città. Da mercoledì 1 luglio dunque via il nuovo servizio. Le principali novità, almeno quelle che saranno percepite dall'utenza, riguardano l'apertura del CCR anche lunedì mattina, la presenza dei CCR mobili con pesatura da lunedì al sabato dalle 9.13, lo spazzamento domenicale di Ortigia e della zona Umbertina, il porta a porta nelle zone balnearie e delle case sparse. Nei prossimi mesi con l'arrivo delle nuove attrezzature sarà infine completato il porta a porta nella zona di Grotta Santa, ancora non coperta. Con questo affidamento può iniziare la vera sfida per tutta la città, dice il sindaco Francesco Italia, che entranto nel merito ricorda come quello firmato, sia un appalto calibrato al nostro vastissimo territorio, rispondente alle vocazioni e alle attività presenti in esso. È un appalto che attraverso un servizio efficiente dovrà rispondere alle esigenze dei cittadini. L'amministrazione comunale di Siracusa ha pubblicato un avviso volto a individuare associazioni di volontariato e promozione sociale, cooperative sociali, associazioni sportive o comunque soggetti che perseguono finalità educative, ricreative, sportive e socioculturale a favore di minori per l'organizzazione di centri attività estive. Le strutture interessate entro il prossimo 2 luglio devono presentare stanza di partecipazione attraverso un apposito modulo predisposto dall'ente. Requisiti di partecipazione, bando e modulistica sono disponibili sul sito del Comune. A seguito delle indicazioni contenute nel decreto dell'assegnazione ai fondi saranno poi definiti nel dettaglio i criteri che permetteranno alle famiglie di poter beneficiare di questa opportunità. Plauso della Segreteria Cittadina del PD di Floridia per il neoeletto segretario provinciale del PD, il professore Salvo Adorno, cui facciamo, si legge in un comunicato, i migliori auguri di buon lavoro e a cui va reso applauso, visto che ha tenuto fede al suo primo impegno quello di visitare i circoli della provincia per incontrare tutti gli iscritti. La notizia è sottoscritta della Segreteria Cittadina. Il PD floridiano è stato l'unico circolo a poter eleggere il 5 marzo prima che scattasse la pandemia come segretaria cittadina Rosalia Di Paola. Insegnante è già ex assessore sotto l'aggiunta di Orazio Scalorino. Adorno ha sempre ribadito, dicono nel comunicato, la centralità che i circoli locali hanno nell'idea di partito, di conseguenza l'importanza del ruolo esercitato dai segretari di circolo. A dimostrazione di ciò, il segretario provinciale ha iniziato il suo giro, partendo proprio non a caso da Floridia, comune impegnato nella prossima campagna elettorale per l'elezione del sindaco del Consiglio Comunale. Il PD floridiano si presenterà a quell'appuntamento con una propria lista, col proprio simbolo e soprattutto con una propria candidata a sindaco, l'ingegnere Claudia Faraci. L'incontro con Salvadorno ha sancito il nuovo clima di collaborazione e di dialogo con la segreteria provinciale, nel contempo ha suggellato, dicono dal circolo di Floridia, l'avvio della campagna elettorale, nella quale tutto il PD, in maniera compatta e a tutti i livelli, sarà in campo a sostenere la propria candidata. Questo è un momento particolare per il PD. Finalmente, dopo due anni, intanto, ha completato il suo iter dei congressi. Abbiamo avuto l'elezione del segretario provinciale. Sono stati eletti tutti i segretari cittadini, compresa la mia elezione, anche se la mia fortunatamente è avvenuta prima del blocco che c'è stato a causa del Covid. Sono l'unica segretaria donna, intanto questo per me è già una grande soddisfazione della provincia. Abbiamo avuto anche il piacere di avere il segretario provinciale. Uno dei punti fermi del segretario era quello di visitare tutti i circoli provinciali. Il primo circolo che ha visitato, ovviamente, è stato quello di Floridia, per la duplice soddisfazione intanto della segretaria donna. e soprattutto perché alle prossime elezioni del 4 ottobre Floridia si presenterà alle elezioni con il simbolo del PD e come candidato una donna del PD, una dirigente provinciale del PD, l'ingegnere Claudia Faraci. Quindi per noi è un momento veramente di grande soddisfazione e anche di molta responsabilità perché ovviamente da questo momento in poi è una fase da un lato esaltante, da un lato abbiamo una responsabilità enorme che speriamo il 4 ottobre si concluderà in maniera molto positiva per noi. Perimetrazione del territorio interessato dall'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei, i comuni dell'Unione invitano le aziende a segnalare i propri dati entro il 1 luglio 2020. E' quanto sta facendo il comune di Canicattini-Bagni. Al fine di redigere e trasmettere alla Regione lo studio cartografico aggiornato per la perimetrazione dei territori interessati dall'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei, allo scopo di accertarne vincoli e norme e nonché la presenza e la distribuzione di attività agricole presenti nel territorio interessato nei comuni dell'Unione Valle degli Iblei, il sindaco di Canicattini-Bagni, Marilena Miceli, invita le aziende agricole, zootecniche e artigianali che insistono sul territorio comunale a trasmettere entro il 1 luglio i seguenti dati denominazione aziendale, tipo azienda, indirizzo di sede legale e sede operativa, comune, foglie e particelle interessate dalle attività. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!